Furti e poca manutenzione delle aree pubbliche hanno fatto del Porcellino piccolo quartiere diviso fra i comuni di Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Figline Incisa e fra le province di Firenze e Arezzo, spesso territorio di nessuno. Furti e atti criminosi si sono registrati in questi ultimi anni anche nell'adiacente quartiere di Ponte alle Forche. Hanno fatto crescere la rabbia fra gli abitanti che chiedono da tempo più sicurezza e investimenti sui lavori pubblici. Ieri sera presso il circolo del quartiere si è svolto un incontro con due consiglieri regionali della Lega, Cassucci e Alberti, insieme ad altri esponenti del partito che ha incontrato i cittadini della zona. Tra le circa 50 persone presenti molte sono le problematiche emerse nella discussione. Seguo con attenzione i problemi delle frazioni di Porcellino e di Ponte alle Forche. Una frazione al centro di tre comuni, San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Figline Valdarno e di due province, Arezzo e Firenze. Ma in realtà è dimenticata da troppi. Degrado, sicurezza, ordine pubblico, decoro, pessima manutenzione, opere e lavori pubblici realizzati con approssimazione. I cittadini di queste frazioni chiedono risposte a problemi concreti. Le amministrazioni di sinistra non sono state in grado di provvedere, neppure dopo che il sottoscritto ha portato questi problemi in consiglio regionale. Occorre portare pagina. Questi, secondo Cassucci, i punti principali su cui lavorare nel quartiere nei prossimi mesi, anche in vista delle elezioni che coinvolgeranno proprio tutti e tre i comuni confinanti con la zona. Sicuramente il problema del degrado e della sicurezza. Oltre che naturalmente attenzione, come per tutti il Val d'Arno, dello sviluppo economico e della discarica, che sono problemi che attendono soluzioni concrete.